Una due giorni dedicata alla Sicilia, alla storia che ha vissuto la Sicilia moltissimo tempo fa, gloriosa storia che ha coinvolto anche in prima persona e in prima battuta Gela. È importante per il nostro territorio per ricordare, per rivivere, per avere un quadro sempre presente di quello che noi siamo stati, perché solo attraverso la ricerca possiamo andare avanti e questo noi cerchiamo di fare come organizzazione di acquaria, cerchiamo di divulgare sempre e comunque la cultura. Su quale periodo storico si è concentrata la sua ricerca e qual è il momento storico che l'ha appassionata di più? La passione in genere è per tutta la storia greca, perché altrimenti il nostro lavoro non si potrebbe fare senza la passione ed è anche in qualche maniera il motivo per cui noi siamo qui per la seconda volta, perché è la seconda edizione di Geloi e siamo felici e siamo anche motivati proprio dalla passione, perché non c'è un'università qui. Eppure vede che siamo docenti in università di sia italiani che stranieri, insieme siamo venuti a Gela, abbiamo scelto proprio Gela, invitati dalle varie associazioni, proprio per passione e per portare anche a casa delle persone di cui studiamo la storia, la loro storia e le nostre ricerche. I greci hanno scelto la Sicilia e Gela in particolare come punto di riferimento. Gela è stata davvero una città gloriosa, 2700 anni fa, dalla fondazione ad oggi sono cambiate tantissime cose. Come si è evoluta la storia da allora e che cosa è rimasto secondo lei di quel mondo antico e glorioso in questa terra? La Gela ha avuto una storia abbastanza breve, ma fu ricostruita come terra nuova Eraclea da Federico II e era anche un'utopia. Oggi c'è di nuovo, ma è di recente, Gela. Gelo I1 e adesso Gelo I2 rappresenta davvero un punto di riferimento della storia di Gela migliaia di anni fa, ma dovrebbe essere un punto di partenza per una nuova era. Noi abbiamo una grande storia, una grande storia che ha avuto influenza non solo sulla Sicilia, ma anche per buona parte della storia d'Occidente, perché alla fine i riferimenti della storia greca e della Sicilia sono il fondamento della cultura europea, quindi la presa di coscienza di questo elemento, di questo fatto.